Si chiude ufficialmente la gara per quanto riguarda questa serata, allora io vorrei accanto a me anche tutti i nostri ragazzi, prego, e intanto ascoltare anche il giudizio della giuria partendo da Marco Petrozzi. Io direi che se volevamo sentire delle buone interpretazioni stasera le abbiamo sentite. Grazie, intanto mi possono raggiungere Rino Fiumara e Vilma Goic che voleva ascoltare anche il loro commento, grazie, fermi qui. Luisa? Siamo arrivati alla terza fase, ormai la qualità è sempre più alta e noi facciamo il nostro lavoro con al massimo l'obiettività possibile. Grazie, Alex lo lascio per ultimo. Differenza di timbro ma veramente grosse qualità interpretative ed espressive. Grazie, Alex. Ciao. Allora, vabbè, si stringe il cerchio ovviamente, stiamo arrivando nelle fasi quasi conclusive, la qualità è alta e loro, i miei colleghi, hanno già detto tutto, per cui l'unica cosa che posso dire è un grande in bocca al lupo, cominciamo a metterci presenza scenica. Un po' l'ho vista, un po' no, quindi è una cosa molto importante, comunicatività. Quindi al di là della musica, della canzone, anche la presenza. Vilma? Ha ragione, Alex, perché la presenza, cioè il movimento in scena è importante perché accompagna la canzone. Devo anche dire che in certi momenti, durante gli spettacoli, quando uno non ha molta voce, il fatto di muoversi in un certo modo distrae e quindi aiuta molto. È una tattica. Sì, è anche una tattica, però devo dire che alla gente piace, insomma, vederti muovere. Io sono una che si muove molto sul palco, quindi anzi, qui devo dire che sono molto contenuta. Ma tu fai uno spettacolo eccezionale. Mi diverto, mi piace che la gente si diverta. Rino, mi dai un giudizio sulla gara? Io e lei stavamo seduti e parlavamo proprio di queste ragazze. Ma chi è che le prende? C'è un maestro? Agenti sparsi in tutta Italia che vanno ad ascoltare. Ma sono tutti bravi queste gente. Ormai con i talent veramente tutti quanti, tutte brave queste ragazze. Qualcuna più, qualcuna meno, però veramente bravi. Complimenti a chi ha organizzato. Grazie. Grazie del vostro commento, del vostro giudizio. Una gara anche questa sera tutta al femminile. A più tardi. Grazie mille. Grazie a voi.